Ciao a tutti cari amici e amiche del Taroman, eccoci qui nuovo video sul mio canale. Ogni tanto faccio queste tipologie di video, è un video dedicato al gioco dell'otto quindi tentiamo la fortuna. Faccio sempre una piccola parentesi, disclaimer, questo è solo un gioco, è solo un video scopo di intrattenimento, non voglio assolutamente farvi protendere maggiormente al gioco spasmodico, al gioco dell'otto fatto in maniera spasmodica, qua siamo qui proprio per divertirci, mi raccomando se volete giocare e tentare la fortuna fatelo con moderazione, ok? Anche perché non c'è nessuna garanzia dell'uscita di questi numeri, le cose devono essere anche chiare e trasparenti. Comunque attraverso le carte dell'otto oggi voglio darvi un ambo, quindi due numeri, da giocare su due ruote, ne ho messo delle tempistiche, io vi consiglio di giocarli da qui per diciamo 3-4 estrazioni, anche se per caso dovessero uscire dopo un'estrazione, continuate comunque a giocare questi numeri per anche le successive volte, ok? Benissimo, ora vediamo un attimino quali sono i due numeri da giocare, vediamo un attimino quali sono i due numeri da giocare per il prossimo periodo, allora vediamo un attimino, il primo numero è il 18 e il secondo numero è il 77, ora ve lo faccio rivedere, numero 18 e numero 77, ecco qua, vediamo le due ruote su cui giocare, questi due numeri, la ruota di Venezia e la ruota di Napoli, quindi scrivete carta e penna 1877 su Venezia e Napoli, buona fortuna a tutti, se vi va lasciate un like, un commento e condividete sui vostri social questo video, ciao a tutti!